Si sono il piccolo lui e sono qui per il tag dell'ubriacone Chuck 2 Perché questa è la seconda volta che sto registrando Comunque per chi volesse più info su questo coso Me l'hanno regalato da Tiger All'un modico prezzo di 3 euro Io ho sempre voluto avere un Chuck Così Chuck si gira Cosimai poi Voglio Come si chiama Pagherò qualcuno quando sarò ricco Che mi faccia il Chuck Perché io non sono in grado Allora il tag dell'ubriacone Drunk book tag Ovviamente bevete responsabilmente Io bevo principalmente vino Vino rosso, vino bianco a volte il moscato Comunque insomma Bevete responsabilmente Non vi mettete alla guida quando bevete Anche perché a me l'alcol provoca sonno Io non è che mi ubriaco e vado fuori di testa Allora Vino ai 16 anni finalmente sei riuscita A raffare la vodka di tua madre Mostra un libro che era il tuo guilty pleasure del passato Allora diciamo che il mio passato è stato contornato Da Insomma classici Quindi Orgoglio e Pregiudizio Madame Bovary e compagnia danzante Però se proprio vogliamo prendere Un guilty pleasure del passato abbastanza recente Il Harry Potter ovviamente Io l'ho letto quando avevo 19 anni Quindi io non sono cresciuto con i libri di Harry Potter Però insomma Riconosco che è sempre un evergreen Andiamo avanti Birra Cioè non li possiedo Anche perché i libri o mi hanno fatto arrabbiare O mi hanno fatto piangere O mi sono piaciuti Mi hanno fatto fangorlare Quindi Quelli che proprio mi hanno fatto sbellicare la ridere Ce ne sono veramente pochi Ho scelto la graphic novel ovviamente Di Maceri I primi di Zero Calcare Che vi ho fatto alla recensione del primo e del secondo Perché è veramente molto comico Ma ha questa comicità tagliente Che alla fine insomma Ti fa ampiamente piangere Perché è una comicità veramente molto reale E quindi insomma Il caro Zero Calcare Che un giorno lo incontrerò Tequila Hai fatto festa la scorsa notte E hai bevuto troppa tequila Quale libro non vorresti mai più vedere? Allora Se sui fidanzati dell'inverno Io comunque ho delle Insomma Delle aspettative Per quanto riguarda il miglioramento Della storia E anche della protagonista Che spero all'inizio del secondo volume Che prenda una botta in testa E rinsabisca Per quanto riguarda il sognatore Io non voglio più vederlo Tant'è che appena ho finito di leggerlo L'ho venduto E sinceramente non sono neanche interessato A sapere come va a finire Onestamente Quindi il sognatore So che l'hanno amato praticamente tutti Però ci sono alcune persone Che non l'hanno apprezzato Meno male quindi non siamo solamente Noi mosche bianche Io mosca bianca Ma ci sono anche altre mosche bianche Questa cosa mi fa ampiamente piacere Però assolutamente no Birra Pong Mostra un libro Che ha letto super velocemente La mossa del principe 400 pagine No sono 300 pagine 312 pagine lette in un giorno Perché io volevo assolutamente sapere Come va a finire Purtroppo questa saga mi ha deluso sul finale Comunque le recensioni le trovate Tutte nell'info box Onestamente è stato un peccato Perché era partita veramente molto bene Ma il terzo È qualcosa di improponibile Cioè secondo me poteva fare Un altro volume Quindi fare 4 volumi al posto di 3 In modo che molte cose venivano approfondite Anche molti personaggi Però questo io l'ho letto tutto d'un fiato L'ho letto praticamente in un giorno Cosa che non mi è mai capitata O è capitata ralissime volte Allora Vacanza di primavera Hai gettato al vento le tue inibizioni E hai avuto una notte sexy Che non potremmo dimenticare con Damiano Qual è la tua lettura sporcaccione preferita? Allora Vabbè A parte i store 2 Che è un classico Che dovete assolutamente leggere Soprattutto se avete letto Quella porcheria delle 50 sommature Ma ovviamente Erika Young Però diciamo che questo Non è una Diciamo Lettura sporcacciona Nel senso che non ci sono delle scene erotiche Insomma descritte Però insomma Si parla di sessualità Ma non si parla solo di quello Perché comunque è un libro Che va a affrontare L'universo L'universo femminile a 360 gradi Quindi questo ve lo consiglio assolutamente Diciamo anche questo Vabbè Poi ci sarebbe anche Che ne so L'amante di Lady Chatterley Piuttosto che Che ne so Vabbè Tutta la Young E anche io e lui Di Moravia Che tra l'altro lo potete trovare anche in libreria Che è bellissimo Però devo finirlo di leggere Vabbè Ma così sono dettagli Vortice Qual è la lettura più attorcigliata Che tu abbia mai fatto? Attorcigliata Per quanto riguarda la trama Io l'ho interpretata così Ovviamente Game of Thrones Io ho preso il settimo Con la speranza che esca Un giorno l'ottavo No il settimo Scusate Il dodicesimo volume Vabbè Io ho questa copia Spezzata Comunque sì Più complicato di questo Penso che non ce ne siano Onestamente Perché i personaggi Sono veramente tanti E insomma Quindi più attorcigliata di così C'è solamente Beautiful Allora Long Island Un miscuglio di bevande alcoliche Qual è la tua preferita Fuori dalla tua comfort zone? Allora Onestamente Non è una lettura preferita fuori Nel senso che Io leggo Principalmente Fantasy Young Adult Però Al di là di quello Non ho un genere Diciamo prestabilito Nel senso che Non è che vada a leggere Che ne so Gialli Piuttosto che Saghe familiari Piuttosto che Che ne so Thriller E quant'altro Diciamo che Spazio molto Insomma Mi lascio anche prendere Dal sentimento Ovvio che Gialli e Horror Non li leggo L'Horror poi Mi ha ampiamente deluso Dopo aver letto L'Esorcista Ma lasciamo perdere Comunque Diciamo che Mi faccio molto Prendere dal sentimento Ecco Però Principalmente Fuori Cioè Dipende da tante cose Ecco Insomma Sex on the beach Una bevanda Che potrebbe essere Grande in teoria Ma non è ciò Che ti aspetti Quale Qual è un libro Che non ha letto L'hype Allora Secondo me Il caro Restorni Della Tyrant Mafia Questo volume Lo aspettavamo Con ansia I fan Insomma Della saga Perché la saga Ha spezzato in due A chi è piaciuta Tantissimo E chi invece L'ha odiata E questo quarto volume Insomma Si aspettava con ansia Per ritornare un po' Nel mondo Di Shatterney Di Come si chiama Di Juliet Di Warner E quant'altro Anche perché molte cose Non erano state dette Però onestamente Tutta questa attesa È stata Un pochino Deludente Quindi tutto questo hype Che c'è stato Prima Insomma Dell'uscita Quindi Aspettare con ansia Eccetera Eccetera È stato un po' Deludente Ecco Onestamente Con questo volume Io sono tornato Ai livelli del primo Ovvero Mi era piaciuto Ma con riserva E spero che la Mafia Possa fare In qualche modo Qualcosa Perché Insomma Deve assolutamente Riprendere Perché ci sono degli aspetti Che mi hanno lasciato Ampiamente basito Però Continuerò E vedo proprio Come andrà A finire Andiamo avanti Qua si è bloccato Ho il tablet Di Mamma Ruby Che Allora Vino Sei appena stato lasciato Quindi ti metti a letto Con la bottiglia di vino Preferito Un po' di gelato E inizi a piangere Il gelato Proprio no Cioè Vino O solo vino O solo gelato Assolutamente no Poi mi butto sul salato Vabbè Comunque Qual è Quale libro Ti ha fatto piangere Tutte le lacrime Raccontami un giorno Perfetto Dicevo Raccontami un giorno Perfetto Della Cara Niven Anche questo È stato odiato È stato amato Io quando sono arrivato Alla fine di questo libro Cosa vi devo dire Mi ha emozionato Mi ha emozionato tantissimo Io pianto Riconosco E comunque Non è un libro Perfetto Non è un libro Che Insomma È Può essere considerato Insomma Il capolavoro Indiscusso Della letteratura Young Adult Però Nonostante i suoi difetti Insomma Mi ha Reso in lacrime Che volete dire Strip Club Mostra la tua Sottocoperta preferita Allora Io onestamente Non ho la mania Di andare a vedere Le sottocoperte Le sottocopertine Cioè Onestamente Non mi interessa Non lo so È una cosa che Molti la aprono Per vedere Cosa c'è sotto Ma nella maggior parte Di caso Sotto È È a tinta unita Insomma Quindi io non ho mai Aperto Per vedere cosa c'è sotto Però se proprio Devo dare una risposta Autorità di Vandermeer Ecco Questa è la Diciamo che Non è neanche una Sì È una sottocoperta Insomma Quindi questa È la copertina Che va a comporre il titolo E sotto c'è Un coniglio Che è ampiamente Inquietante Insomma E qui Trovate Insomma anche Parte della trama Poi Togliete E non c'è niente Che bello Niente Il tag è finito Fatemi sapere voi Le vostre risposte Fatemi sapere voi Se vi è piaciuto Fatemi sapere voi Tante cose belle Fatemi sapere se Il Chuck Vi piace Così lo vedrete Così lo vedrete poi Prossimamente Ciak Si gira E niente Noi ci vediamo Ci vediamo Al prossimo video Preparatevi che uscirà La recensione Di Ilenor Oliphant Sta benissimo Quindi preparatevi Perché sarà una recensione Veramente Molto Molto Approfondita Molto Colorita Ci sarà tanto colore Quindi rimanete In campana Io vi mando Un grosso bacio Sotto trovate Tutti i miei link Tutti i libri Insomma Della Della Affiliazione E niente Non mi resta Che salutarvi Augurarvi Buona giornata E noi ci vediamo Alla prossima Ciao